L'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar è la prima struttura in Italia e nel sud Europa a disporre di Electa Unity, un'assoluta innovazione nel campo della radioterapia oncologica di precisione. Si tratta di un acceleratore lineare integrato con una risonanza magnetica a campo alto 1,5 Tesla. Sì, l'innovazione di questa apparecchiatura è basata fondamentalmente sul fatto di essere l'unica apparecchiatura ad oggi esistente che combina due sistemi, una risonanza magnetica, quindi un'apparecchiatura diagnostica che ci consente di visualizzare la sede da colpire e un acceleratore lineare di ultima generazione. Quindi in sintesi riusciamo a mirare come mai avevamo fatto prima la sede della malattia risparmiando al meglio gli organi sani e soprattutto facendo quelle correzioni necessarie seduta per seduta che prima potevamo fare solo in modo limitato, addirittura non potevamo fare. Noi riteniamo che Electa Unity rivoluzionerà il mondo della radioterapia introducendo sempre maggiore precisione, efficacia e sicurezza per i pazienti ed estendendo possibilmente anche il numero di indicazioni per cui la radioterapia può essere il trattamento più idoneo.